È stata probabilmente posta oggi la prima pietra del nuovo stadio di Pescara, in questa conferenza stampa, Assessore Deodati, avete parlato di un progetto molto ambizioso che però ha i piedi per camminare. Sì, un progetto ambizioso che coinvolge molti attori perché non coinvolge solo l'amministrazione comunale, coinvolge l'università, la Pescara Calcio, il CONI in generale perché noi abbiamo seguito per questi due anni e mezzo un percorso che doveva portare alla ristrutturazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Purtroppo anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con la sovrintendenza, la presenza di tutti questi attori ci siamo resi conto che le difficoltà sono tante per cui abbiamo trovato ampia condivisione e questo è molto importante per noi da parte della sovrintendenza e da parte di tutti gli altri attori coinvolti per portare avanti questo progetto che è un progetto che rivoluziona un pochino tutta la parte di Pescara Sud, nel senso che non si tratta solamente della costruzione di un nuovo stadio ma si tratta proprio di creare una cittadella dello sport con tutte le attrezzature necessarie perché questa zona diventi proprio una parte riqualificata e utilizzabile da tutti i cittadini e da tutta la collettività. Ovviamente io devo studiare un po' meglio la situazione che riguarda l'università, il coinvolgimento che riguarda l'università nel progetto ma devo dire che fondamentalmente potrebbe essere un valore aggiunto a quelle che sono le offerte formative che noi possiamo dare ai nostri studenti. Il progetto per quello che ho potuto vedere è veramente interessante e in linea con lo spirito di una città come Pescara che è in continua evoluzione quindi sono sicuro che verrà apprezzato molto dagli studenti.